In collaborazione con il grande mercatino dell'antiquariato, inizia Monferrato ogni terza domenica del mese. Nella notte a Costigliole d'Asti in frazione Boglietto è andato a fuoco il magazzino del mobilificio. Allarme, due squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato da mezzanotte fino all'alba per avere ragione dell'incendio. I danni sono gravi ma non ancora del tutto quantificati. Sulle cause del rogo indagano i carabinieri ed i tecnici del comando dei vigili del fuoco di Asti. Ed i carabinieri di Castelnuovo Don Bosco invece indagano sul furto avvenuto nella notte di lunedì al centro commerciale Magnone. Utilizzando un furgone in retromarcia, i ladri hanno sfondato la vetrina del supermercato dirigendosi nella tabaccheria dove hanno rubato sigarette e schede telefoniche per un valore di circa 8 mila euro. E ieri al Palazzo Enofila la Camera di Commercio di Asti ha assegnato oltre 500 attestati ad altrettante imprese impegnate nella valorizzazione del territorio. Vediamo. Ma io credo che nei momenti di difficoltà, di crisi sia importante tutelare le piccole e medie aziende, quelle che lavorano e fanno sacrifici, si danno da fare sul territorio, sono radicate nell'astigiano. Noi vogliamo dire grazie e premiarle con un riconoscimento, direi, importante. Quindi una ricetta per questa crisi è sicuramente la promozione del territorio e delle sue peculiarità. Ma io direi di sì. Noi abbiamo un bellissimo territorio con vignetti, con belle colline. Su questo territorio però lavorano tante aziende che fanno una grande qualità. Ecco perché oggi gli diamo tutta quella riconoscenza che è giusto dare. La città di Asti dedicherà una piazza ad Angelo Marchisio, giornalista e figura carismatica del partito socialdemocratico astigiano vissuto fra il 1920 e il 1999. Angelo Marchisio fu assessore e consigliere comunale per diverse legislature e ricoprì numerosi incarichi in ambito sociale. L'area dedicata ad Angelo Marchisio si trova di fronte agli uffici dell'Agenzia del Territorio nel complesso dell'ex caserma Colli di Felizzano. La cerimonia inaugurale della piazza è prevista per sabato prossimo, primo ottobre, alle ore 10.30. E con questo da Asti anche per oggi è tutto, l'appuntamento e ai prossimi collegamenti. In collaborazione con il grande mercatino dell'antiquariato di Nizza Monferrato, ogni terza domenica del mese.